Arrestato ieri sera a Sassari dagli agenti della squadra mobile il presunto accoltellatore di un cinquantenne aggredito al latte dolce. L'accusa per il pregiudicato quarantenne e di tentato omicidio. L'episodio risale a ieri mattina all'uscita da un tabacchino quando R.U. queste le iniziali del ferito è stato colpito con diversi fendenti al petto, uno dei quali ha raggiunto la vittima a un polmone. L'uomo ferito, residente al latte dolce, è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso di Sassari in gravi condizioni. La lite tra i due sarebbe scaturita per futili motivi. L'arma usata per colpire il cinquantenne è stata recuperata e sequestrata dagli agenti. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati nel quartiere di latte dolce alla periferia di Sassari casi di violenza e vandalismo oltre alle aggressioni e alle liti. Diverse le auto in sosta che sono state incendiate, compresa un'ambulanza.